Grazie per avermi qui, è un piacere per noi, collegandomi a quello che hanno detto loro, io spero veramente di fare bene quest'anno, non dobbiamo giocare come abbiamo fatto la bichetta di ieri, perché sennò lo andiamo per la salvezza, penso. No dai, fatti scherzi, è il secondo allenamento che abbiamo fatto insieme, quindi ci sarà tanto da lavorare, abbiamo fatto una cosa magnifica quest'estate, spero che vi siate divertiti a seguirci dalla tv, perché insomma ci siamo emozionati molto noi, quindi spero che anche voi avete provato questa sensazione. Grazie per aver guardato. Sono convincente, un applauso più appunto. La posta è 10 secondi, perfetto. È la seconda volta che io la faccio, però parla velocemente questo ragazzo. Speriamo di fermarci qui quest'anno, la prossima estate con la Valle Azzurra, ma... 60 secondi, non 60 secondi. Grazie.